Ciao ciao, buongiorno da Mirko Lanfranchi. Un breve video per tutte quelle persone che sono un po' suscettibili alle critiche, cioè al fatto che c'è sempre qualcuno pronto a criticarci là fuori, soprattutto se vogliamo metterci in proprio, vogliamo fare qualche cosa di nostro, vogliamo magari avviare un'attività di network o qualche cosa che diciamo è un po' fuori dalla normalità. Quindi bisogna essere pronti a mio avviso a ricevere le critiche e come possiamo fare per gestire queste critiche? Qual è il segreto possiamo dire così? Ma a mio avviso innanzitutto bisogna fare due considerazioni, bisogna vedere da chi arrivano le critiche perché se arrivano da persone che nella loro vita hanno avuto successo e hanno fatto cento volte di più di quello che hai fatto tu, allora questa critica probabilmente non è una critica ma è più che altro un consiglio, un suggerimento, ok? Quindi hai la possibilità di ricevere dei suggerimenti da qualcuno che ha fatto qualche cosa di importante. Cioè se tu ad esempio vuoi fare network marketing e ricevi una critica dal tuo cugino squatrinato che non sa neanche da che parte si inizia, è chiaro che questa critica non è una critica di una persona che ha già fatto qualcosa, ha già avuto successo e quindi ti può dare dei consigli, ma è semplicemente una critica di qualcuno che molto probabilmente ha una bassa autostima di sé e quindi cosa deve fare? Per elevarsi deve criticare qualcun altro, deve buttare giù qualcun altro perché così va a favore del suo ego. Questo è un po' quello che succede. Quindi devi controllare chi ti fa questa critica da una parte e dall'altra parte che risultati ha avuto chi ti sta facendo questo tipo di critica, ok? Quindi a me capita spesso, non so, anche nelle mie inserzioni di avere dei commenti di persone sotto che magari per un errore di scrittura, un refuso, ti criticano, no? Come se fossi un, non so, un ignorante, no? E quindi, ah, ma cambia questo annuncio, questi errori di ortografia, di scrittura, eccetera, eccetera. Io non è che ci guardo molto, anche perché poi guardando il profilo di questa persona si vede che sono persone che nella loro vita si capisce che possono insegnare ben poco e quindi probabilmente sono persone che soffrono, che hanno dei loro problemi, ok? Cioè le persone che ti criticano così in modo gratuito, come ti dicevo prima, ma è perché hanno una loro sofferenza che vanno a compensare col fatto di andare a criticare qualcun altro che ha voglia di fare, che ha voglia di mettersi in gioco, che ha voglia di raggiungere dei risultati. Quindi ecco, il mio consiglio è lasci andare questa tipologia di critiche, perché sono proprio critiche gratuite, che non hanno nessun tipo di significato e invece cerca di prendere quelle critiche costruttive che ti fanno quelle persone di successo che magari appunto ti danno dei consigli in merito a quello che stai cercando di fare, ok? Io non mi permetterei mai di buttare giù qualcuno o di criticare qualcuno aspramente se mi dovesse chiedere dei pareri o dei consigli riguardo a quello che faccio, a quello che vuol fare nella sua vita se vuole fare attività di network, per esempio, e cerchio solamente di dargli dei consigli affinché possa elevarsi, possa andare oltre, possa migliorarsi e possa trovare degli spunti utili per la propria crescita, la propria attività o quant'altro, ok? Quindi è importantissimo distinguere tra le critiche costruttive e le critiche distruttive che sono appunto quelle fatte da quelle persone che soffrono, che hanno qualche cosa con loro stessi e quindi è un loro problema, sicuramente non è un tuo problema e quindi lascia andare tranquillamente questa tipologia di critiche e vivi serenamente perché come dico sempre io, se non ti fa sorridere, cambialo e aggiungo, come è scritto qui, punta alle stelle, mira alle stelle, ok? Un saluto da Mirko Lanfranchi e al prossimo video, ciao!